Presidente, la Croce Rossa cerca volontari e a breve inizieranno i corsi di formazione. Sono aperti a tutti o è necessario avere delle competenze specifiche? Non sono richieste competenze specifiche. Consigliamo l'ingresso dai 17 anni a salire fino ad arrivare ai pensionati. In mezzo chiaramente ci sono i giovani, gli adulti e appunto come dicevamo i pensionati che magari hanno anche più tempo da dedicare al prossimo. Quando e dove presenterete i nuovi corsi? Presenteremo due corsi, uno sulla città di Fano e l'altro a Lucrezia di Cartoceto, entrambi patrocinati dai rispettivi comuni. Il 11 settembre a Fano, a Gimarra, in via Cena, al centro sociale, mentre a Lucrezia, in via della Repubblica, al centro comunale. Poi quando si svolgeranno? Allora, sia la presentazione che le lezioni saranno alle ore 21. Abbiamo delle date, ad esempio quelle su Fano, partiremo esattamente oltre alla data di presentazione dell'11. La lezione vera e propria inizierà a martedì 17, poi il 18, il 23 e il 25 sono le lezioni normali. Domenica, in entrambe le circostanze, sarà una full immersion dalla mattina fino alla sera, dove faremo anche le tecniche di primo soccorso e spiegheremo quindi la parte più voluta, perché la prima parte, scusate ancora non l'avevo detto, è più una parte storica. Quindi cos'era la Croce Rossa, che cosa ha fatto, cosa fa, quindi è giusto sapere le basi e poi piano piano con questo corso e con altri ci si specializzerà meglio su varie tematiche. Che cosa poi andranno a fare questi volontari? I volontari della Croce Rossa possono svolgere attività nel sociale, abbiamo uno sportello psicosociale, apriremo un'unità di strada, abbiamo uno sportello per viveri, faremo anche attività in ambulanza, l'ambulanza come trasporto infermi, quindi trasporto dove le persone hanno bisogno di essere portate in visita all'ospedale, oppure trasporti in emergenza, quindi da ospedale all'ospedale o più avanti, anche proprio come 118, quindi in supporto alla sala operativa 112. Reclutate anche altre figure? Sì, oltre ai volontari semplici, cioè nelle attività che ogni volontario può svolgere, quindi che può non avere nessuna mansione particolare, possono comunque entrare fabbri artigiani, quindi come fabbri falegnami, idraulici, elettricisti, perché potrebbero venire impegnati in situazioni di calamità, piuttosto che studenti o meglio ancora, come diceva l'epoca, anzi anche figure più specialistiche come potrebbero essere farmacisti, infermieri, assistenti sanitari, medici, perché è nostra intenzione essere proprio sul territorio facendo anche delle campagne di prevenzione, in collaborazione anche con il Comune e le altre associazioni del territorio, delle giornate informative appunto per la prevenzione della salute.